Favorire la diffusione di buone prassi di qualificazione e sviluppo dell'occupazione del Comune di Capurso è il comune denominatore che ha portato alla firma del protocollo di intesa di questa mattina tra il Comune di Capurso, rappresentato dal Sindaco Michele Laricchia, Gigi Abucci, segretaria generale della CGL Bari, Giuseppe Boccuzzi, segretario generale della CISR Bari, il coordinatore comunale CISR Vito Cinquepalmi e Stefania Verna, coordinatrice della Will Puglia Bari. Obiettivo la promozione dell'inclusione lavorativa delle persone disabili, della parità di genere e dell'assunzione di giovani con età inferiore a 36 anni e donne nelle appalti di lavori, servizi e forniture del Comune di Capurso. Con i sindacati c'è sempre stato un ottimo rapporto e tanta condivisione delle questioni che riguardano i lavoratori. Il Comune di Capurso ovviamente è sempre dalla parte dei lavoratori, che siano quelli nostri, interni del Comune, che siano quelli che vengono a lavorare per il Comune. Quindi c'è massima attenzione e c'è massimo rispetto nei confronti dei sindacati. Questo è il motivo per cui siamo stati velocissimi ad accettare la proposta. Innanzitutto un traguardo importante nell'area metropolitana barese perché cerchiamo di valorizzare la spesa pubblica rimediente dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza verso la direzione di un incremento dell'occupazione femminile, giovanile e delle categorie svantaggiate del lavoro. Lo diciamo da sempre, l'obiettivo principale di questo grande piano di ripresa e resilienza deve essere non solo infrastrutturare il territorio ma dare più occupazione di qualità, occupazione sicura, occupazione stabile ai tanti disoccupati di quest'area metropolitana. Il Comune di Capurso è stato il primo di questa area metropolitana. Ci auguriamo di continuare a stimolare questo interesse e questa efficacia di spesa pubblica in tutte le altre amministrazioni appaltanti della nostra area metropolitana. Grazie.